Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito, benvenuta a Barbara Chichiarelli che ci è venuta a trovare qui per la prima volta al Corriere dello Sport, ciao Barbara Allora, allora, dunque prima di addentrarci in tematiche sportive che so che tu ci tieni particolarmente giusto a livello calcistico, ci arriviamo, ci arriviamo, non ti preoccupare Prima parliamo del motivo per il quale sei qui oggi, che è uno spettacolo che andrà al teatro Eliseo Off, giusto? Sì Dal 3 aprile al 29 aprile Ma non tutti i giorni, ovvero lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, sempre alle 20, tranne il venerdì che sarà alle 18 Ok, allora raccontami un po' questo spettacolo, prima cominciate e poi arrivano le domande E poi farei domande Vai Questo spettacolo in realtà è un monologo I Figeni e Splott I Figeni e Splott Diciamo il titolo Cominciamo il titolo È un monologo, è un monologo di Gary Owen ed è un monologo scritto nel 2015, quindi io credo che comunque a seguito delle crisi, della crisi soprattutto europea che c'è stata, racconta un po' questa crisi Infatti si ambienta in una periferia, la periferia di Splott che è la capitale, diciamo, la periferia di Cardiff, la capitale di Galles Noi abbiamo cercato di non connotarlo geograficamente, diciamo, è un'Europa Può essere una periferia di qualsiasi città europea, diciamo Esattamente Ed è un monologo in versi, è un monologo di narrazione e quindi ci sarò io che per un'ora racconterò la storia di questa Ifigenia Però non è noioso, ecco, non è noioso, forse un pochino, un pochino drammatico ma non noioso Però fa riflettere molto, insomma, immagino A mio avviso sì Senti, in questa, tu sei da sola sul palcoscenico, giusto? E appunto fai un monologo di tipo un'ora per prepararlo, insomma non è stato facile, nel senso hai dovuto, come, quanto tempo ci hai messo a prepararlo? In realtà non tanto, perché poi mi sono approcciato a questo lavoro come a tutti gli altri Cioè uno fa le prove, vede, migliora La cosa bella di questo monologo è appunto che è scritto molto bene E quando una storia è scritta bene, chiaramente va E' facile, come dire, mandarla a memoria E per questo dicevo, non è noioso perché in realtà è una storia Quindi anche se io dovessi essere, come dire, non troppo brava, spero di no No, no, ma che scherzi Gli spettatori, ecco, potranno seguire la storia E quindi credo che si appassioneranno alla storia Vorranno sapere quantomeno come va a finire, ecco Insomma sì, non spoileriamo Ci sarà un finale, immagino Non ci sarà la seconda stagione, penso Immagino sia autoconclusivo Autoconclusivo Senti, però raccontami anche un po' il tuo personaggio Insomma, il tuo personaggio è un personaggio abbastanza combattivo, giusto? Che cerca di sopravvivere in questa periferia Sì, è una ragazza, diciamo, che nasce in una condizione disagiata E per la maggior parte della sua vita, diciamo, sopravvive e non vive Finché non le capita, purtroppo, per fortuna, dipende come poi si andrà a leggere l'epilogo Un qualcosa che chiaramente la distrugge, tra virgolette Quindi la ricrea, in un certo senso Per cui questo evento cambia completamente la sua vita La sconvolge e da lì lei prenderà una decisione E chiaramente noi percorriamo tutta la sua storia Diciamo che c'è un alfa e l'omega Si apre in un modo e si chiude esattamente nello stesso modo il monologo Quindi è come se fosse una parentesi, no? Nel tempo, per cui il personaggio alla fine arriva a dire le stesse cose Grazie Grazie